Rappresentiamo un centenario di persone che in questa vicenda sono rimasti senza soldi, però non accetto più l'idea di continuare a leggere sui giornali di tentativi di risoluzione o dichiarazioni che vogliono tranquillizzare i risparmiatori, perché alla prova dei fatti, oggi, il Veneto Banca non si presenta davanti il conciliatore e quindi costringe l'Ardico a promuovere quelle che sono le cause di fronte alle autorità giudiziarie. Cento azionisti che hanno atteso inutilmente oggi una conciliazione e risparmiatori che sempre oggi hanno appreso il valore delle loro azioni in Popolare di Vicenza. Sono solo alcuni aspetti di una medesima vicenda, quella delle popolari venete nel momento forse più difficile della loro storia recente, partendo da Veneto Banca, tra le due forse in condizioni migliori. Intesa continua a confermare la garanzia sull'aumento di capitale, anche se solo dopo il 5 maggio e il nuovo CDA si saprà il valore reale del collocamento. Inutile però, secondo gli economisti, farsi tante illusioni, perché la fretta nel cercare un partner con cui fondersi sottolinea la debolezza dei conti. L'amministratore delegato sono alcune settimane che oramai mettono in evidenza il fatto che dopo l'aumento di capitale si dovrà rapidamente procedere verso una fusione. Ed evidentemente lui che ha i numeri in mano sa che la situazione non è particolarmente facile e quindi un matrimonio si rende praticamente necessario. Ma la situazione più difficile continua ad essere per la Popolare di Vicenza, che nonostante il Fondo Atlante voluto dallo Stato, non riesce a trovare più la fiducia del mercato. Il Fondo Atlante ha contrattato di sottoscrivere le azioni al prezzo minimo della forchetta, per cui anche se dovesse sottoscrivere un'azione, il prezzo dell'azione finale sarà 0,10. Che significa per chi aveva azioni fino all'altro ieri valutate oltre 62 euro aver perso quasi tutto. E il quasi è per un fallimento che in tutti i modi si tenta di evitare, perché dopo gli azionisti c'è il popolo degli investitori, delle azioni subordinate e anche i correntisti sopra i 100.000 euro in deposito. Non si può andare in una strada diversa che non sia quella che il fondo sottoscrive e in qualche modo il capitale aumenta e speriamo che la banca riesca ad andare avanti.